Sono molto contento di essere qui perché comunque questa piazza merita qualcosa di più e io l'ho sempre vista da fuori, si è sempre vista una curva bellissima, un sostegno molto importante della tifoseria e quindi questo è una cosa che da giocatore vuoi sentirti partecipe di tutto questo. Sono state altre situazioni, sempre di Serie B ma che ho preso in considerazione chiedendo un po' di tempo anche qua alla società ovviamente per fare le mie scelte però alla fine riguardando il tutto, tifoseria, squadra e tutto poi ho deciso di prendere questa scelta e sono contento di questo perché comunque ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali che mi hanno accolto come se fossi con loro da anni e penso che ci siano anche qualità per poter fare bene. Ho già fatto anche gli anni passati parecchi gol in precampionato, l'obiettivo ce l'ho in testa sotto l'aspetto dei gol preferisco tenerlo per me, poi magari a fine anno ci rincontreremo e ve lo dirò. Nella mia testa c'è la doppia cifra, magari è qualcosa di più però non volevo dirlo. Sto pensando al regalo da farmi e a fare alla squadra quindi sarebbe bello una parte di scherzi sappiamo che è una parte importante soprattutto la prima partita ufficiale del campionato cioè scusi dell'anno della Coppa e quindi cercheremo di fare una vittoria per tutti e soprattutto per il mio compleanno.